Ieri 6 novembre la Diocesi di Lecce ha ricordato la dedicazione della Chiesa Matrice a Santa Maria Assunta. Teledeola ha trasvesso in diretta la Santa Bensa che ha visto anche l'ordinazione diaconale di quattro seminaristi sempre della Diocesi. Ascoltiamo uno stralcio dell'Omelia dell'Arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia. Fratelli e sorelle è un mistero ed è una gioia che si rinnova oggi, di cui continuiamo a farne viva e memoria, non per le candeline dell'anniversario, ma per le candele che ricordano la fede dei nostri padri. Ricordano la fede che ancora voi, cari genitori, continuate a trasmettere ai vostri figli, consapevoli che le vostre case sono chiese domestiche. E quella fede casalinga, familiare, si ravviva qui, quando l'unica, vera, grande famiglia di Dio, radunata intorno al suo pastore, al successore degli apostoli, ma rarrivata soprattutto dalla gioia e dalla presenza di un principe della Chiesa, che ci rende ancora più umili, pur nell'orgoglio, ci rende ancora più umili per questa grazia che la Chiesa diocesana ha ricevuta, di un pastore che porta nella sua carne la testimonianza di una missione che oggi sembra lontana, ma che ha avuto il significato del superamento, del carcere, della condanna dei battezzati, della prigione dei preti e del martirio di tanti martiri, uomini, donne, papà di famiglia, mamme, nella vicina Albania. Ecco la gioia, la forza, il fondamento della nostra Chiesa. Ecco ciò che dovete accogliere, cari giovani, perché il diaconato che stasera riceverete, segno del servizio, porta questo stigma, porta questo segno, vivente. Perché tutti abbiamo il segno distintivo della croce di Cristo. Tutti crediamo nel mistero pasquale di passione, morte e risurrezione. Ma quando questa verità di fede diventa esperienza storica, esperienza vicina a noi, che non altri ci vengono a raccontare, ma che i nostri fratelli di questa diocesi hanno vissuto e continuano a vivere.